Breve braccio di mare tra la Sicilia e il continente costituiva un'interruzione troppo onerosa nei grandi trasporti ferroviari perché non si cercassero tutti i mezzi per attenuare gli effetti sulla rapidità e regolarità delle comunicazioni. Dalle ferrovie dello Stato si è saputo organizzare con i due nuovissimi terriboti, Cispa e Carigli, un traghetto su nuove basi razionali e con servizi moderni e comodi per i viaggiatori tra Messina e Reggio Villa San Giovanni. Questo traghetto fa parte della grande linea di comunicazione tra la Sicilia e il nord della penisola e sopporta quasi tutto il traffico derrade di esportazione della Sicilia. Le navi Scilla e Carigli rappresentano i più grandi e più veloci per osca di traghetti per il contemporaneo trasporto di passeggeri, treni e automobili costruiti in Europa e sono prodotti esclusivi dell'industria italiana. L'allestimento delle navi è stato eseguito con quanto di più moderno si può desiderare, sia per comodità, praticità di distribuzioni di ambienti e norme igieniche. Il ponte di coperta è specialmente riservato per i carri ferroviari e la lunghezza del binario centrale è stata fissata in modo da poter introdurre nello stesso il treno diretto della maggiore lunghezza attualmente traghettato e destinato alla Sicilia.